Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Blegi Tutorial e in questo video vi mostro un tweak chiamato Velox. Sicuramente ne avrete se ne sentito parlare, infatti molti utenti lo desideravano già quando era solo in fase di sviluppo. Questo Velox ci permette infatti di aggiungere una funzione particolare a tutte le nostre applicazioni. Infatti andando nelle impostazioni come prima cosa ci sarà la sua scheda, eccola qua, Velox. Andando in Preferences potremo scegliere con quale gesture attivare queste funzioni. Se trascinare l'applicazione in alto, trascinarla in basso oppure entrambi. Quindi che cosa possiamo fare? Prendiamo per esempio l'applicazione Impostazioni. Come vedete trascinandola verso in alto si apre questa specie di cartella in cui potremo attivare o disattivare tutta una serie di toggle. Il non disturbare, il wifi, la rotazione automatica, fare un respring, la localizzazione, il bluetooth e l'uso in aereo. Quindi abbiamo la possibilità di regolare tutti questi toggle e infine lo slider per la luminosità. Con l'applicazione Fotocamera invece ci si aprirà niente meno che la fotocamera. Potremo scattare una foto sia dalla fotocamera posteriore che anteriore. Potremo passare alla videocamera. E quando scattiamo una foto, facciamo un video, potremo ridimensionarlo, scartarlo oppure salvarlo nel rullino foto. Con l'applicazione Meteo potremo per esempio vedere il meteo della nostra città o di una città preimpostata. Con l'applicazione Mappe ci si aprirà una specie di tendina che ci localizzerà sulla mappa e potremo appunto navigare, solo che ci metterà un bel po' a caricare la nostra posizione. Con l'app Store e con tutte le altre applicazioni che non sono supportate ci compariranno comunque le notifiche. Ad esempio con l'applicazione Messaggi abbiamo la possibilità di scrivere un nuovo messaggio. Con l'applicazione Musica ci si aprirà una specie di widget proprio come il tweak Widget Music che infatti era stato creato ispirandosi a Velox. Con l'applicazione Note abbiamo la possibilità di scrivere una nuova nota. E con l'applicazione Safari avremo la possibilità di andare ad aprire una finestra di navigazione veloce senza aprire appunto tutto il browser. Con l'applicazione Contatti abbiamo la possibilità appunto di visualizzare tutti i nostri contatti, di mandare una mail oppure chiamarli nel caso di un iPhone. Con l'applicazione Cydia avremo la possibilità di vedere tutte le novità. E infine con l'applicazione Facebook, Twitter e YouTube ci si aprirà una quick view del nostro account Facebook in versione mobile. Proprio come se lo stessimo visitando da Safari oppure un altro browser. Anche con l'applicazione Google Chrome si comporterà nello stesso modo di Safari. Il tweak si chiama Velox. Attualmente è aggiornato dalla versione 1.0.1.1 ed è scaricabile dalla repo di Big Boss al prezzo di 1.99$. Noto ancora qualche piccolo impuntamento ogni tanto quando lo attivo la Springboard crasha ma devo ammettere che è davvero spettacolare. Lo sviluppatore ha inoltre comunicato che sta già lavorando per la versione per iPad che attualmente non esiste. Supporta tutte le versioni di iOS 6.0.1.0. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e anche dare un'occhietta nella mia pagina di Facebook. Vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di Bleji Tutorial. Ciao a tutti!